Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Overwatch questo perchè inizia da portarvi dei video di Overwatch che siano partite, che siano prove, che siano teste e quant'altro oggi è giovedì 16 novembre ed è appena... questo video non uscirà male no, uscirà immediatamente perchè è il giorno, la sera dell'uscita di Moira ufficialmente in game quindi noi adesso siamo in compagnia di Peppe che appunto ha appena parlato poi c'è Scafu che compie gli anni tutti i giorni e poi c'è Ale dovevi per forza continuare il fatto praticamente ragazzi stiamo testando Moira sia in attacco che cure, che danni e quant'altro sia contro altri tipi di personaggi come ad esempio un Genji come ad esempio una Sombra soldato vedere quanti danni riceve quanto resiste quanto cura chi para chi rimbalza insomma e in questo video grazie la tua serie è stupenda Peppe Moira soprattutto detta anche delegata della Folletto sì perchè se prima avevamo... Ale la starti sta partita? eh sì eh sì vabbè oh grazie tranquillo fai come vuoi cioè se prima ragazzi avevamo la... come si chiama la... il rappresentante della Folletto ovvero Simmeta ecco Moira è la delegata regionale tipo quindi noi andiamo a selezionare Moira siamo da soli in squadra siamo contro Ale, Peppe e Ale dunque ragazzi innanzitutto questa qua è Moira non ho alcuna skin e va bene le sue abilità sono questo jump diciamo che vabbè adesso non sono andata avanti è una specie di teletrasporto molto simile a quello di Reaper un pochettino più veloce eccolo qua ve lo faccio vedere boom eccolo qua che ti permette di sfuggire dalla ultra di Zarya ad esempio poi abbiamo... ma anche in tutte le direzioni o anche in tutte le direzioni esatto poi abbiamo la E che ti permette di scegliere col tasto sinistro le cure e il tasto destro i danni cosa fa? lancia praticamente una sfera d'energia che rimbalza per la mappa e in base al tasto ovviamente cura e fa danni se usato in combo ai vari raggi ovvero sinistro con la cura destro con i danni fa un male della madonna quindi usatelo attentamente al centro vediamo l'indicatore del raggio delle cure come potete vedere scende abbastanza rapidamente ma c'è da dire che cura veramente un botto adesso io vado a selezionare un attimino le palle le palle in questo caso utilizzerò la palla contro Peppe in questo modo vedremo se riesce a rimbalzarci la palla automaticamente funzionerà anche con la cura quindi Genji ci rimbalza addosso anche la cura volendo quando vuoi vai eccola qua che ce l'ha rimandata indietro e mi hanno anche devastata questa volta contro Diva proveremo sempre la palla prima con la cura quindi ciao la lancio vai ecco esatto e scomparsa la palla delle cure e automaticamente scomparirà anche quella dei danni molto probabilmente quindi con la proviamo vediamo 3 2 1 vai si ma sei un pirla sei un pirla si aspetta 5 e 4 aspetta la vado a recuperare no 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 torna qua ci sai vado 3 2 1 vai metti già lo scudo va si gatto no no tira tira sparisce ah aspetta mi ha dato una specie di danno a me non so perché mi ha dato il segno del danno un hit marker facciamo subito le sfere con lo scudo di simmetra si ok quando ho detto si vado 3 2 1 lo scudo trapassa trapassa ma mi sa che con lo scudo di scafu ti sei salvato perché ti ha tolto ti ha annientato ok quindi boh praticamente diva può fare da salvatore salvatrice anzi a chiunque si trova una palla in faccia ad esempio invece ora proviamo le due diciamo io sono l'impiegato della direttricella colletto e io sono il tuo e io sono e io sono il tuo titolare quindi raga distanza differenza di range vabbè insomma mi devo curare perché qua non si fanno i cavoli propri ma poi la palla di cuore ti cura c'è ragione anche tu oltretutto guardate boing boing ecco la palla la palla rimbalza quindi se lanciate queste palle dentro le stanzine dentro è figata pazzesca fa male e cura mettiti a paro della linea a paro della linea ah questa quella linea questa eh ma qui mi zica si che ti prendo vai tu allora io non ti prendo eh ma io si di brutto guardate dobbiamo mettere volendo prendi anche me adesso a voglia guardate che range proviamo nostra cosa prova ad attaccarti ti disattiva la ma ti disattiva la no 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 però forse quando c'è la matrix non si può attaccare aspetta attaccati e invece si le balle le balle e poi ragazzi non meno importante questa qua è il cannone garlic di vegeta prova no non so avevo la ultra attiva non mi ha fatto fare lo shift esatto questa è una cosa importante quando sei in ultra attiva lo shift non funziona esatto quindi con la ultra attiva niente shift volevo vedere se con lo shift potevo scampare dalla ultra è vero se sei con lo shift si scopre però devi azzeccare il momento giusto e per questo volevo provare invece abbiamo scoperto che con la ultra non possiamo avere altri tipi di di attacchi praticamente che basta che basta che basta non lo faccio più questo è questo è ammutinamento allora allora tre due uno uno si fa molti più danni si metto però a te aumentano progressivamente ho notato guarda come acceleri si e poi io accelero tendo accelero un pochettino si tu hai danni progressivi invece abbastanza basi però comunque personalmente per me fa per quello che è un support Moira quindi non è che dovrebbe fare danni cura un botto è molto più veloce rispetto a Mersi vado a prendere sempre oltretutto aspettate alle scafume venite qua tutte e due danneggio un attimino ah no cavolo non posso farlo perché siete nemici però vabbè praticamente volevo farvi vedere che avendo gli alleati danneggiati ovviamente se si mettono uno dietro l'altro finché sono all'interno del raggio si curano tutti quindi la cura si sposta qualcuno non so no no vabbè non importa la cura non prende soltanto uno perché non si attacca ma è proprio più ad aria quindi basta che li prendi così e li cura tutti e due ok io la cura la posso usare anche se sono vabbè quello è normale ok poi prova adesso mentre attacco scafu che ha più vita prova ad hackerarmi dimmi quando ci sai ci sono no ma dovrebbe funzionare lo stesso e funziona lo stesso però appunto non posso usare gli attacchi tipo shift eccetera Ale quando è che c'hai la ultra eh 57% basta basta curati curati tira tira balla anzi fai così vai di sotto e mi faccio tira la balla che ti che rimbalza io tanto ti sparo vai si ma dammi no torna qua pallina pallina succhia 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 ok a posto a posto ok proviamo questa cosa della ultra però devi azzeccare il momento giusto perché se mi compari quando esplode è la fine eh non lanciarti buttata la buttala lì vai vai proviamo la schiva la salta la salta la salta molto bene molto bene con sombra proviamo prova a disattivarmi la ultra la lancio adesso aspetta 3 2 1 aspetta un secondo fammelo andare cannone garlic e la ultra e la ultra viene disattivata da peppe quindi boh bella ale prova a farmi prova a farmi un headshot vai ok sono rimasta con 60 hai fatto headshot ok sono rimasta con 60 allora ragazzi adesso proviamo la trappola di junkrat perché con reaper nonostante rimaniamo ad esempio intrappolati se noi attiviamo il suo shift quindi la modalità spettro rimane intrappolato però non fa praticamente più danni ora voglio vedere se con lo shift una volta che siamo intrappolati ci fa scappare come ad esempio dalla ultra di zaria quindi intrappoliamoci eh no no però scompare e ricompare nello stesso punto adesso prova a sorpassarla sorrendola sorpassandola eh no la sorpassa bene bene aia madonna perché perché dico io perché ma non credevo che mi passassi così vicino credo che pensi su dietro è morto come l'abbè sto sto dobbiamo fare allora sperando sperando non esca dalle porte come ho fatto prima perché la sfera mi abbandona io lancio le cure però mi sa che è un po' troppo largo come spazio lancio le cure e vai spara spara mentre io ti danneggio io riesco a curarmi ok va bene che c'era anche la cure si non me ne sono accorta ecco proviamo proviamo ad attaccarci allo scudo di scafo te lo carica certo ok noi carichiamo lo scudo e ovviamente non gli facciamo danno quindi ok mentre con taser possiamo scappa ok allora c'è da dire ragazzi fermati 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 c'è da dire ragazzi che il come si chiama il tasto destro quindi questo muoviti muoviti bravo il tasto destro si stacca molto facilmente basta che ci si muove nonostante il ranch veramente guardate qua si stacca molto facilmente quindi occhio a come vi muovete a differenza invece delle cure che in punto è abbastanza più ad aria non c'è bisogno di stare attaccati così quindi ragazzi che dire noi abbiamo praticamente fatto vedere la maggior parte degli eroi perché ad esempio con mei ha gli stessi principi di tutti gli altri personaggi con i vari support è inutile provarla perché abbiamo già detto ad esempio che commersi che è l'unica con la quale poter fare un paragone decente fa cure molto più velocemente rispetto a mercy quindi tanta 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 roba personalmente è un personaggio che merita secondo me e che sicuramente proverò a differenza di tutti gli altri ultimi personaggi usciti tipo dunfit tipo orisa tipo vabbè sombra oramai un annetto che c'è però comunque tutti questi personaggi ultimi usciti li ho usati veramente veramente poco questa invece vorrò utilizzarla parecchio ultima cosa che voglio farvi vedere e va fa un bagno niente aveva l'ultra avevo l'ultra ma va bene l'ultra cura e danneggia quindi se ci sono nemici di mezzo danneggia se ci sono alleati di mezzo cura attenzione piccola parentesi il cannone garlic di vegeta il cannone garlic di vegeta ha un piccolo difetto ha un range pazzesco a parte avere un range tremendo ha un piccolo problema non fa un cazzo di danno ma cura tantissimo esatto quindi utilizzatelo molto di più sicuramente per le cure o per salvare il culo agli alleati cerchiamo che se c'è un mischione fra alleati e nemici e tirate il cannone garlic gli alleati sono in vantaggio qualcuno ve lo tirate anche come un nemico ma non ci sperate perché comunque fa pochi danni tiralo cioè curalo curalo no mi tiene no no merci lo tiene lo tiene alla stragrande anzi rimane addirittura in vantaggio ora aspetta un attimo si però se ti metti anche le tue cure ultima prova che vorrei fare mentre merci è attaccata a peppe venite al chiuso solo magari perché così rimbalza voglio provare mettiti in un punto fermo voglio provare a lanciare la palla e fare danni con la palla vedere quanto lo regge merci quindi eh ne fa eh si ma la palla mi sta mangiando adesso mi sono soprattutto quando mi è passata di solda si ecco adesso poi c'è la cura figuriamoci proviamo fermi che provo anche la ultra vi faccio vedere guardate ai 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 vedete quanto ok questa è la ultra bene molto bene ragazzi e per questo video può anche essere tutto fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare di Sombra quali altri tipi di test avete fatto se li avete fatti con altri personaggi di Moira di Moira Moira Faye la nostra nuova personaggia la nostra nuova support diciamo fateci sapere tutto quanto nei commenti se vorreste vedere dei video dove magari la giochiamo e niente ragazzi lasciate un bel like per sostanzialmente il canale ci vediamo al prossimo video grazie a Scafu Peppe e Ale bella 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 la prossima dovete morire tutti vieni qua vieni qua vieni qua sono morta vieni qua